simone piacere sono il tuo video a terra perché poi ci arriverà il tuo video ufficiale che adesso sta per aria d'accordo perché sta cagata perché sta cagata di buttarsi giù dagli aerei ma è una mia abbiamo capito che non capisci già più niente adesso allora aspetta che arrivi per aria e vedi che non capisci ancora di meno dopo è un sogno che ho voluto farlo sempre meno male hai fatto bene così quando scendi fai pure il corso FF bravo 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 vabbè ti lascio con Lorenzo che ti finisce di imbragare e poi vai su e se non senti il tirone sbatti forte le braccia forte 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 d'accordo poi lui ti aiuta comunque vabbè faccio un giusto siamo a bordo ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.